Il sistema Allegro è l'unico sistema di point of care di Nova Biomedical con prelievo capillare ed analisi su urina. Rapido, semplice e compatto, il sistema Allegro permette di fornire in farmacia un servizio di autoanalisi completo ed accurato. Il sistema Allegro offre nuove opportunità e vantaggi. Risultati accurati in pochi minuti, prelievo non invasivo, profilo analitico completo fino a 13 parametri eseguibili simultaneamente. Software intuitivo per un facile utilizzo.